Dottor Simon Tacchi, cosa significa per uno studio legale impegnato nel fronte tax innovare e fare innovazione con i clienti? Credo che fare innovazione voglia dire seguire il trend del mercato e quindi capire che la fiscalità a livello mondiale e a livello italiano si modifica e cambia e quindi andare verso un dialogo e tutte le nuove forme di interazione con l'agenzia delle entrate. Grazie